Si sono disputate tra sabato e domenica le partite valide per il 17esimo turno del campionato di serie A1 di basket femminile, molto interessante perché ha visto scontri incrociati tra le prime quattro squadre della classifica. La Gesam Gas Lucca ha mantenuto la leadership della classifica nonostante la sconfitta rimediata 58-60 in casa dell'Umana Reier Venezia che ha colto l'occasione per portarsi a solo due punti dalla vetta della classifica. La squadra veneta inoltre ha raggiunto la Famila Wuberschio che non ha approfittato dello scivolone del Lucca rendendosi 72-65 contro il Fila San Martino sempre in quarta piazza al pari della Sacesma Pei Napoli con 12 vittorie e 5 sconfitte totali. La Diche doveva ottenere la vittoria e vittoria è stata pur soffrendo tantissimo contro un'ottima meccanica nuova per tre quarti dell'incontro.